Termocamino Vulcano, tutto il potere del fuoco al centro della tua casa. Riscaldi dovunque e hai acqua calda a volontà, con una facilità d'uso che non immagini. Affidabile e sicuro il Termocamino Vulcano è la moderna macchina termica che fa rivivere l'antico fascino del caminetto. La bellezza della sua fiamma, la linea che scoppietta e il tepore che irradia creano un'atmosfera unica. Vulcano, termocamini di nuova generazione. Grazie a tutti.